Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Una donna di indubbia classe Sabrina Ferilli, che da tempo possiamo dire è diventata una regginetta indiscussa della tv, della fiction nostrana e non solo. Storica è anche e soprattutto la sua amicizia con Queen Mary Ma ora Sabrina ha fatto molto parlare di lei tramite una foto social. Lei detta moda con indosso un paio di jeans stracciati a regola d'arte Sabrina Ferilli, da diva della televisione italiana ad influencer, ora una sua fotografia che le ritrae coi jeans strappati sembra lanciare la nuova moda Lei sempre più bella.Sabrina Ferilli, regina di bellezza e di moda Icona di moda e di stile per il mondo dello spettacolo italiano, la mitica Sabrina Ferilli, da sempre particolarmente distintasi per la sua ragguardevole bellezza e ora più che mai per le sue numerose apparizioni televisive, nell'ultimo periodo ha incantato tutti a Tussi che Valens, dove è balzata agli onori della cronica per essere diventata la vittima preferenziale del Nanno Rosso, che secondo alcune voci tornerà anche nella nuova stagione E allora per lei non ci sarà via di scampo.La star sia del piccolo che del grande schermo Negli ultimi anni ha lavorato molto sia per il piccolo che per il grande schermo De io ruoli in particolare per cui è impossibile non ricordarla sono l'ambigui Daniela nella pellicola sul precariato tutta la vita davanti firmata Paolo Virzi, e Ramona nella grande bellezza che ha visto alla regia Paolo Sorrentino In televisione un ruolo assai iconico è stato quello, peraltro simpaticissima, della maldestra ladra Gina, accanto a uno strepitoso Claudio Bisio, nella serie TV 2 Imbruglioni e mezzo A far parlare però ora di lei è ben altro. Si tratta di uno scatto social con un look decisamente rock che non è passato di certo inosservato Jeans strappati, t-shirt easy e giacchina nera, il look è da copiare Potremmo dire, forse scherzosamente ma non troppo, che Sabrina dopo questo scatto potrebbe essere consacrata, dopo una longeva carriera da attrice, anche come influencer, visto l'effetto che esso ha immediatamente conquistato la vastissima schiera delle sue fan, che sono molto ben rimaste impressionate dalla sua scelta di outfit, in particolare dai jeans leggermente strappati dal taglio e colore classico Li ha abbinati a una semplice t-shirt grigia di cotone a girocollo e a una giacchina svasata e corta di colore nero, lasciata aperta, impreziosita dalla presenza di strass Make up studiato nei minimi dettagli e capelli sciolti, dotati di magnifiche on Un look di suo assolutamente da copiare.Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video